Allora, chi siete? Siamo il Comitato dello Masterplan di Torbella Monaca. Ormai siete qua oggi contro il... Siamo qua, siamo qua ovviamente perché la speculazione edilizia che sta cominciando a Torbella Monaca che prevede 350 milioni di euro in vestiti da privati in case private chiaramente non solo cacerebbe noi dalle case dove abitiamo e dal nostro quartiere creando una serie di problemi e regalando sostanzialmente metà quartiere ai soliti noti alle solite banche, ai soliti palazzinari ma soprattutto siamo qua perché la città è un bene comune non è qualcosa da mettere in vendita, non è una merce o un paio di scarpe che si può vendere come questa parata dove sostanzialmente alle mani sta mettendo in vendita tutto quanto. Quindi non credete che questi stati generali servano a rilanciare la città? No, no, servono proprio a lanciare il prodotto città, servono a metterla in vendita a presentarla al miglior affariante, al miglior banchiere di turno, al miglior palazzinario di turno al miglior investitore di turno, non certo ai cittadini che sono stanchi come siamo stanchi noi di essere utenti, consumatori, mai quello che siamo, mai cittadini, mai persone portatori di diritto e che vogliono esercitare il proprio diritto a fare una battaglia di dignità come quella contro il masterplan a Torbella Monaca e soprattutto per una grossa riqualificazione popolare. Ci sono case popolari che noi paghiamo per la manutenzione lasciate all'abbandono, abbiamo un patrimonio verde incredibile, un patrimonio architettonico incredibile a Torbella Monaca e poi viene lasciato all'abbandono e oggi diventeranno palazzi. Questa è la Roma degli stati generali di Alemane. Grazie mille.